Rimangono le famiglie con bambini e le persone ritenute particolarmente vulnerabili. Tutti gli altri in partenza per varie destinazioni. Continua a svuotarsi il cara di Mneo, il centro di accoglienza dei richiedenti asilo arrivato ad ospitare diverse migliaia di migranti e al centro di scandali giudiziari fin dalla prima giudicazione della gestione, finita nell'inchiesta mafia capitale. Ora il centro è in via di smobilitazione. 50 sono partiti oggi, altri 100 ospiti saranno spostati entro la fine di febbraio. I primi 50 a lasciare il più grande centro di accoglienza per i richiedenti asilo d'Europa sono tutti uomini adulti senza figli che vivono nella struttura diversi anni, qualcuno anche più di 5. Per loro adesso la destinazione sono tre centri di assistenza per stranieri più piccoli ma sempre in Sicilia. 25 andranno a Trapani, 15 a Siracusa e 10 a Ragusa. Per altri 50 il trasferimento è stato programmato per il prossimo 17 febbraio e ancora 50 dopo 10 giorni. Le famiglie con bambini e le situazioni ritenute maggiormente vulnerabili come quelle di mamme, sole con figli o di persone con problemi di salute resteranno, almeno per il momento, nella struttura. A Mineo è in atto la procedura già applicata al ministro Salvini nel centro di Castelnuovo nel Lazio. Attualmente nel centro, che è arrivato a ospitare oltre 4.000 persone negli anni scorsi, ci sono 1.357 tra uomini e donne. Con i trasferimenti in atto e quelli già programmati, il numero degli ospiti scende sotto quota 1.200, livello della clausola di salvaguardia fissata al contratto di appalto.